buongiorno buongiorno dal dottor Claudio Saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera professionale con la v maiuscola oggi ragazzi rispondo ad un signore che mi chiede dottore che cos'è l'infelicità perché le persone la stragrande maggioranza delle persone e anche il sottoscritto siamo infelici mi scrive questo signore cosa c'è che non va bene io ho risposto che la colpa principe dell'infelicità del 2021 e della società attuale la televisione e mi raccomando non pensare come una signora che mi rispose sì ma io non guardo la tv guardo il cellulare guardo i social guardo youtube guardo i vari motori di ricerca eccetera eccetera è tutta televisione in senso lato che ti causa infelicità e ti spiego il perché tu quando guardi bella vita belle donne ricchezza soldi magari ti vedi anche qualche film i signori della pubblicità hanno come lavoro quello di inculcare nella tua mente il desiderio recondito che è nascosto nel tuo subcosciente radicato là dentro nel tuo cervello primitivo in quello che avevano i tuoi antenati gli antenati dei tuoi antenati e naturalmente quando apre questo loop questo anello questo inizio tu se non porti a fine se non chiudi il cerchio questo anello tu non ti sentirai mai felice come se ti mancasse qualcosa e come fai dottore a dire certe cose a capire certe cose perché anch'io quando ero uno studente lavoratore senza una lira in tasca provavo le stessissime cose le stessissime cose stai provando te ero la persona forse la più infelice della terra o almeno per me era così non mi interessava neanche quando il ragazzino quando imprecavo contro mia madre mezza sua era mancata mia madre diceva c'è gente che muore di fame non ti manca nulla bla 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 perché nascono una famiglia povera tu immagina un po cinque figli quattro maschi una femmina però a me non interessava da sbarbatello immaturo qual era all'epoca non mi sentivo felice mi mancava qualcosa perché mi mancava qualcosa perché anche all'epoca 40 anni fa per non dire 45 anni fa quasi mezzo secolo fa io guardavo la tv all'epoca non esisteva internet non esistevano i cellulari per cui guardando la tv inconsciamente mi facevo ipnotizzare dalla tv la colpa ragazzi non è tua per i tre quarti la colpa è della tv il terzo genitore ok senza ma e senza se per cui se tu vuoi liberarti da questa infelicità non esiste puoi farlo da solo ma la strada è lunga e piena è scoscesa piena di buche e ci perderai moltissimo tempo e farei molti errori oppure puoi utilizzare l'ipnosi dicesse vera professionale con la v maiuscola anche con un solo audio mp3 dicesse che può fare il caso tuo oppure del tuo caro come ad esempio una depressione no passato negativo no ansia no panico salute d'esito ego entusiasmo no influenze da amici e parenti influenze negative eccetera eccetera senza neanche fare sessione online di primosi dices vera professionale con la v maiuscola con il sottoscritto che al momento sono sospese in ogni parte del mondo perché sono molto impegnato e altri progetti fammi tutte le domande del caso a testa solo la scelta di cambiare per il bene tuo e quello dei tuoi cari la tua vita oppure rimanere dove sei e visita il mio sito internet www.iprologiassociati.com la mia fanpage su facebook ipnosi auto ipnosi del dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni dicesse dottor claudio saracino e fai share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita e seguimi per favore anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni dicesse dottor claudio saracino un bacio un abbraccio amico mio amica mia alla prossima ciao